Buongiorno a tutti, sono Valentina Bongiovanni e a Molli prendo cura della nostra struttura. Due grandi edifici nel quartiere di Lambrate che una volta erano una fabbrica dove si producevano macchine da caffè, diventati ora luoghi di creatività e di ispirazione. Nei nostri 3500 metri quadrati abbiamo 25 spazi didattici declinati in studi fotografici e cine televisivi, studi di registrazione e produzione musicale, teatri e sale prova, aule informatizzate e aree polifunzionali che adattiamo a seconda delle esigenze. Le nostre aule sono ampie e adatte ad accogliere le nostre classi a numero chiuso. Da sempre attenti alla vivibilità della scuola e al benessere di chi la frequenta, io e i miei collaboratori ci occupiamo dell'allestimento delle aule e degli spazi comuni e offriamo supporto e assistenza nell'utilizzo delle varie attrezzature. Il modo migliore per capire Molli è vederla. Vi aspetto all'Open Day. A presto!